Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi venerdì 22 novembre 2019, questo è il canale 17 di Fano TV, Occhi e Giornali, la rassegna dei quotidiani, tra poco sul nostro test screen ma come sempre disponibili nella vostra edicola di fiducia, il tempo ma prima il santo, la santa di oggi, oggi è Santa Cecilia, il sole è sorto alle 7.10 e tramonterà alle 16.38, avremo un cielo parzialmente nuvoloso con schiarite e possibilità di piovaschi soprattutto nella zona interna come vedete dalla grafica, per domani sabato 23 invece il tempo migliora, ci sarà un cielo parzialmente nuvoloso, l'aumento della nuvolosità soprattutto nel corso del pomeriggio ma domenica vedete c'è il cattivo tempo con precipitazioni saranno deboli, diffuse da fine mattinata, più insistenti nei settori meridionali della regione. Per quanto riguarda il probabile riposizionamento del promontorio anticiclonico atlantico porterà una fase di tempo stabile con scarse precipitazioni la prossima settimana, ma di questo ne riparleremo. Adesso andiamo a leggere i giornali, il Corriere Adriatico apre con l'omicidio di Sesto Grilli, il 74enne di San Lorenzo in campo, l'omicidio è ferrato e crudele dove 4 adesso rischiano l'ergastolo, disposto il giudizio immediato per i quattro calabresi accusati della morte del pensionato. Interquartieri e caos invece sugli espropri, autostrade vuole pagare i terreni 8 euro al metro quadrato, rischio contenzioso e stop alle opere. La fotonotizia invece è per la casa di tutti, a Villa Fastigi c'è un magazzino che dona vestiti e cibo per i poveri. Ancona, i farmaci fanno gol alla camorra, sei colpi tra Senigalli ed Ancona, indepositi e farmacie, salvavita e antitumorali dalle marche al mercato nero. Mentre è stata chiusa la stazione marittima, la stazione dei fantasmi, preda di balordi e senza tetto, mentre sul rogo della fabbrica Tontarelli non fu doloso quell'incendio, fu accidentale e dunque è stato tutto archiviato. SOS furti invece a macerata, presa la banda dell'Audi, 4 albanesi arrestati in Umbria, sequestrata anche una pistola, colpi a segno in tutta la provincia. Il centro della pagina è per la foto dedicata agli eroi in divisa, Anziano, Salvato e Ndrangheta, Encomi a tre carabinieri. Questa è invece la pagina di Pesaro, primo piano del Corriere Adriatico, che pubblica le foto dei quattro arrestati e la villa dove è stato barbaramente ucciso Sesto Grilli. Il 17 marzo del 2019 viene ucciso nella notte tra sabato e domenica nella sua abitazione di San Lorenzo in campo. Il cadavere viene ritrovato la sera successiva riverso a terra, legato ad una sedia e imbavagliato. Dopo serrate indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Pesaro, quattro giovani accusati di omicidio volontario a scopo di rapina su richiesta del PM e ordine del GIP vengono arrestati, due di essi, per due di essi è stata rinvenuta una traccia biologica sulla scena del delitto. Chi sono i quattro arrestati? Il quotidiano Corriere Adriatico pubblica le fotografie con tanto di nomi e cognomi. Sotto nell'articolo di Lorenzo Furlani si parla del pacemaker che aveva addosso Sesto Grilli e che ha rivelato una fibrillazione cardiaca, una sofferenza mai registrata prima nei quasi due anni di applicazione di questo device elettrico, alle 4.24 del 17 marzo. 150 battiti al minuto, come quando si compie un grande sforzo. Era l'effetto della paura per la consapevolezza della morte che avevano preparato per lui e della mancanza di forze sufficienti per sfuggirle. Una morte arrivata nell'arco di un'ora da quel picco di battiti per asfisia. La procuratrice Todeschini del Tribunale di Pesaro ha detto che la vittima era una persona fragile anche per i suoi affetti rarefatti, la sua una morte consapevole ed orrenda. E poi, sempre su questa pagina, la causa omosessuale per il magistrato frutto solo di menzogne. Gli unici a parlare sono stati Nino De Luca e Cagliazza, ma si sono contraddetti scaricando le colpe sugli altri due che sarebbero entrati in casa per delle prestazioni omosessuali, ma sono solo menzogne. Il Carlino, delitto Grilli, indagini lampo, branco a processo. A soli dieci mesi della brutale aggressione al 74enne Laurentino, i quattro imputati saranno in corte d'assise, rischiano il massimo della pena. Un altro processo invece, sempre a Pesaro, mi ha palpeggiata. No, si vuole solo vendicare. Lo accusa di averla sbattuta contro un muro e di averla palpeggiata nelle parti intime, ma lui si difende dicendo che lei lo ha fatto per vendetta, perché le avevano dato lo sfratto. Il presunto violentatore, un 73enne di Colli Almetauro, è finito intanto a processo per atti sessuali contro l'inquilina in affitto in una casa della moglie. Ieri si è svolta la prima udienza di dibattimento. La vittima non si è però costituita parte civile. Il fatto risalerebbe a due anni fa. Arrestato per un maxi-crack, è diventato pentito di mafia Dante Mannolo, coinvolto nell'indagine Malapianta, ascoltato oggi in videoconferenza ad Ancona, anche se lui sta a Rebibbia nel carcere. A Borgo Santa Maria, a Pesaro, Dante Mannolo avrebbe distratto 500 mila euro di merci di magazzini della società Eurodistribuzione per dirottarli in Calabria. Il giochetto ha coinvolto 90 aziende del territorio raggirate. Parliamo adesso invece del convegno, dell'incontro pubblico che c'è stato. In realtà era una commissione congiunta, quindi è diventato un confronto che doveva essere in qualche modo esaustivo per cercare di capire meglio e fare luce sulla questione del digestore anaerobico. In realtà poi mancavano gli esperti nominati da Lega e 5 Stelle, di conseguenza è diventato una questione quasi politica, lo scrive anche il giornale questa mattina. La rinuncia della Lega, scusate non del 5 Stelle, della lista civica Fano Città Ideale, di identificare un proprio nominativo è finita per far prevalere ancora una volta l'aspetto politico. L'illustrazione di Reginelli, le cauteli invocate da Baldoni e la Lega senza esperto la butta in politica. I 5 Stelle chiedono però che questo digestore anaerobico venga realizzato a Monteschiattello, dove c'è la discarica. Senza il digestore apre così il Carlino di Fano un salasso sulle tariffe, insomma la buttano sullo spauracchio. Queste le conseguenze che secondo amministrazione d'Aset si produrrebbero lasciando l'impianto nelle mani di marche multiservizi. Però è polemica. Così come polemica da parte degli ambientalisti fanesi sui pioppi che sono stati capitozzati in via Papiria, così li condannate a morte certa. Ora bisognerà riparlarne a maggio e vedere se saranno ancora lì oppure saranno tutti da buttare via. Priorità ai servizi sociali e ai fondi alla cultura, più fondi alla cultura. Qui stiamo parlando invece dell'approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell'anno. Lotta anche all'evasione delle tasse a Fano, un'operazione, quello del bilancio, da 168 milioni, una manovra locale che ammonta a questo importo, sommando la spesa corrente al piano triennale degli investimenti. Insomma un bel gruzzolo di soldi e per quanto riguarda il capitolo cultura si aumenta di 380 mila euro. Questa è la disponibilità infatti per il settore comunque importante per la città di Fano, che dunque può contare su un totale di 1 milione e 300 mila euro. Sono importi significativi come ha aggiunto l'assessore Cucchiarini e ci sono importi anche importanti per i grandi eventi caratterizzanti di Fano. Fano Jazz, per esempio, Passaggi Festival, la Fano dei Cesari, il Carnevale di Fano, il Festival del Brodetto. E poi ai lavori pubblici, per esempio, che sono stati destinati 7 milioni e mezzo per la manutenzione ordinaria, circa un milione, però qui c'è un problema, un rifuso, 7 milioni e mezzo per la manutenzione ordinaria, circa un milione, mezzo milione per la gestione del verde, non si capisce, c'è circa e poi c'è milione. Bisogna capire se è mezzo milione, un milione o uno o mezzo, lo verificheremo. Fideiussioni bancarie più facili per le associazioni di volontariati, sempre sulla pagina dei volontari. Questa è la pagina sempre di Fano, importante accordo che è stato firmato da Carifano e Carisp, con intesa San Paolo e il Centro Servizi. Ma oggi, alle 18, nella Cattedrale di Fano, sarà celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, con una messa presieduta dal Vescovo Trasarti. Alla celebrazione parteciperanno anche il prefetto di Peso Urbino, Vittorio Lapolla, e i sindaci dei comuni di Fano, Mondolfo, Fossombrone, Cartoceto, Saltara, Pergola, San Costanzo, Mondavio, San Lorenzo in Campo, Montemaggiore, Serongarino, Orciano, Sant'Ippolito, Mercatello, San Giorgio, Frontone, Piaggia, Serra, Sant'Abbondio, Barchi, Fratterosa e Isola del Piano, che sono territori sotto la giurisdizione dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Fano. Confcommercio congeda Francesco Mezzottero, 65 anni a gennaio, molla l'ancora da direttore della Confcommercio Cittadina, prima del tempo, due anni prima della scadenza naturale, meglio così, così viviamo tutti felici e contenti, dice Damarotta, dove attende il risponso IMS su quanto l'associazione deve versare per la pensione anticipata di questo funzionario che ha fatto parte della vita sociale della città. Come capirete c'è anche un po' di vena polemica e i dettagli li troverete sul giornale. Espropri per la bretella di Muraglia, siamo sul Corriere di Pesaro. L'avvocato Brancati, che tutela i proprietari, dice 8 euro al metro quadro è una cifra fuori mercato, dunque vengono bollate come illegittime le tariffe di autostrade per l'Italia. Condannato a pagare la provvigione per la villa, l'imprenditore Mario Morosini, citato in tribunale da Andrea Pontellini, titolare di un immobiliare, in ballo 45 mila euro per l'acquisto di Villa Bucci. Mi tradisce, ho le foto però, ma non è una prova. Attenzione, anche la tecnologia finisce a processo. Le evidenze digitali sono inutili se acquisite in modo sbagliato. A volte uno pensa di avere, come scrive correttamente Elisabetta Rossi questa mattina sul Resto del Carlino, in questo articolo dove ha ascoltato, ha intervistato il consulente informatico Daniele Egidi in ambito giudiziario, uno pensa di avere la pistola fumante, magari perché ha sul cellulare una foto oppure una registrazione audio, insomma, che possa incastrare l'ex marito, l'amante, insomma quello che è, ma non è così, quindi non è sempre così. Anzi, bisogna fare attenzione perché potrebbe essere un boomerang tutto questo. Quindi attenzione, ed è un articolo che potrete leggere questa mattina sul Resto del Carlino di Pesaro. SMS invece al fidanzato, mi uccido, in questo messaggio terribile, una trentenne è stata salvata dai carabinieri. Lei aveva scritto, dopo un litigio, vado ad ammazzarmi. Uno shock per lui che in un attimo, un attimo dopo, aver letto quelle terribili parole, ha chiamato subito i carabinieri, i quali si sono messi sulle tracce della donna, che è una trentenne pesarese, e l'hanno trovata intorno alle 22 di ieri sera, ricerche serrate, una corsa contro il tempo per scongiurare la tragedia. La ministra Lamorgese parteciperà a Senigallia il prossimo 8 dicembre a tutta una serie di eventi che, come ben immaginerete, si riferiscono e serviranno per ricordare un anno dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo, la Lanterna Azzurra. Una messa, tra l'altro, anche con il Vescovo Manenti, il Vescovo di Senigallia, in memoria delle sei vittime della Lanterna Azzurra. Poi ci sono tutta una serie di appuntamenti che si terranno a Senigallia, per esempio alle 15.30 al Mamma Mia ci sarà l'assemblea aperta degli studenti a cura di Scuola Zoppo. alle 19.30 in Piazza Garibaldi c'è un incontro e alla sera ci sarà anche della musica alle 21.15. Riprendiamo la musica con il concerto di un gruppo. Però, come dicevo, alle... E qui voglio darvi questo appuntamento qua. Alle 10... No, la mattina alle ore 9, la Santa Messa, celebrata in cattedrale presieduta dal Vescovo Manenti alle ore 9. Senigallia, questo però è il Corriere Adriatico. Via Lanita Garibaldi, giù sette pini. La viabilità è a rischio per le radici. L'obiettivo è togliere tutti gli alberi e sostituirli. Ma servono soldi e autorizzazioni ambientali. Infatti sono pini e pini sono protetti, quindi di conseguenza... Però sono anche... Creano anche un sacco di problemi, soprattutto all'asfalto, perché le radici tendono a rovinarlo. E c'è spesso il pericolo, soprattutto per chi viaggia sulle due ruote, pericolo che possa farli cadere. L'assessore spiega che è impossibile, altrimenti rifare il manto stradale, se non si tolgono le radici. Togliendo le radici, chiaramente è inutile tenere sull'albero. Montagne russe sulle strade, sempre trafficate. La rete se la ride, con fotomontaggi che spesso strappano un sorriso quando ci si imbatte scorrendo con il dito nei social. E in questo caso la rete se la ride, su Viale Anita Garibaldi. E spuntano un meme che ha innescato un corposo dibattito sul tema. Passare con la macchina sul viale crea un effetto montagne russe che i bambini apprezzano e probabilmente anche meccanici e carrozzieri. Lavori ridotti, parcheggi e passaggi pedonali. Un intervento di un privato tra le vie Rossini e Campo Boario. Siamo sempre nella pagina di Senigallia. A Recanati invece si discute perché gli studenti avevano organizzato un'assemblea pubblica nella quale però far intervenire, far partecipare un trans. Il preside dice no. Polemiche a Leopardi, rabbia degli studenti e tam tam di protesta sui social. Ora, cosa ci sia di così curioso, così interessante, tanto da dover ascoltarlo in un'assemblea pubblica, per lo più in un istituto scolastico, cosa abbia di così importante e interessante da raccontare un trans, questo è tutto da scoprire. Però comunque è una curiosità che evidentemente volevano togliersi questi studenti affascinati da questo mondo. il preside, per fortuna con il sale in zucca, lo vedete anche nella fotografia, Claudio Bernacchia, che è il preside del liceo Leopardi, ha detto no. Perché no? Anche perché non si tratta, dice lui, di censura, ma di un tema che va a sfiorare la sensibilità di molte famiglie, le quali qualcuno ha giustamente chiamato a scuola dicendo, ma scusate, mando mio figlio a scuola e voi date la possibilità di far parlare ad un trans. Vabbè, comunque, questa è. La scuola di Piansevero trasloca in via Oddi, e questi sono i problemi della scuola invece di Urbino, iniziano i lavori, i bambini delle elementari da gennaio si sposteranno, il leccio artistico dovrà andarsene. E va bene, i lavori nella scuola elementare partiranno davvero a gennaio, quindi queste sei classi traslocheranno alle medie in via Oddi, e avranno a disposizione più classi, classi più ampie, una sala per la messa, i laboratori di informatica e di scienze. Però in via Oddi c'è la preside del liceo artistico che dice io non ne sapevo nulla, sono sconcertato, sconcertata, per noi sarà un disagio, perché per accogliere i bambini di Piansevero in via Oddi le cinque classi del liceo artistico devono trovare un'altra sistemazione. Io, Renziano, della prima ora, credo nel rinnovamento del Partito Democratico. Parla Federico Scaramucci, presidente del PD di Urbino, neopresidente Dem Ducale, sulle regionali dice che bisogna puntare su una donna dell'entroterra, ma in qualche modo, così anche come si vince dal titolo, smonta un po' l'entusiasmo per chi si è affrettato ad andare subito dopo la proposta lanciata da Matteo Renzi di andare da Italia viva. Insomma, ecco, come dire, io resto nel PD e resto qua, volentieri. Pergole indossa invece le scarpe rosse per ricordare questa ragazza che nel 2013 è stata uccisa dal suo ex fidanzato a Pinzolo, siamo in montagna. Pergole appunto la ricorderà, questa ragazza si chiamava Lucia Bellucci. No alla violenza sulle donne, tre iniziative in programma, cura del Comune e Sponge. Candelia Candelara si fa in otto, mentre sotto c'è la ruota panoramica che da domani sarà operativa, ma comunque non da domani operativa, nel senso che è lì. Da domani verrà ripristinata la sosta, verrà liberato un lato di Aldo di Largo Moro subito dopo il taglio del nastro, previsto per oggi, quindi non è domani. Oggi pomeriggio verrà inaugurata alle ore 18 e da domani si potrà tornare a parcheggiare su un lato. Quindi questa ruota panoramica che ha preso forma, ieri ci sono state, abbiamo visto anche delle fotografie che abbiamo postato nei nostri social, le prove anche di illuminazione, insomma fa certamente un bel effetto. I parcheggi resteranno chiusi fino al 6 di gennaio sul lato ex dell'ex Bramante, dove lo spazio sarà occupato appunto dalla ruota, mentre sull'altro versante sono apparsi dei cartelli quali indicano che dopo le operazioni di montaggio, a partire da domani sarà ripristinata la sosta. L'ambito sociale si riorganizza con struttura e dirigenza unica, l'obiettivo è una maggiore integrazione tra i nove comuni che lo compongono, sarà guidato da Roberta Galdenzi, Fano sarà capofila per gli altri, meno spese e maggiori servizi. Puliamo Fossombrone supera tutti i confini, enorme la quantità di rifiuti raccolta a calcinelli, il gruppo di volontari fa buona scuola e trova proseliti, sono portati a calcinelli nel comune di Colle del Metauro perché un po' a ciascuno non fa male a nessuno, dice Giorgio Ferretti, il promotore di questo gruppo. Si è formata una squadra mista composta da 15 persone, molti giovani, che sono appunto provenienti da Fossombrone, Tavernelle e Calcinelli, e dopo la colazione che gli è stata offerta sono andati con tanto di sacchetto, guanti e tanta buona volontà a raccogliere tanti tanti rifiuti in giro per il paese. Oh, la buona notizia, qui siamo all'ultima pagina della nostra rassegna stampa, è che il pitone di cui vi avevamo parlato circa due mesi fa, ha fuggito di casa da un giardino a Monteporzio, ebbene è stato ritrovato, era scomparso, il rettile si è fatto vivo in via Forno, ci sono stati fatti anche accertamenti, mi pare giusto, anche sulla detenzione, però è stato ritrovato vivo, si erano perse le sue tracce in via Pinzani, in pieno centro cittadino, il rettile di origine tropicale si è rifatto vivo in via Forno, a poche decine di metri dalla casa dei proprietari, una famiglia ucraina residente a Monteporzio, che ne avevano denunciato la scomparsa il 23 di settembre. ha resistito oltre ogni aspettativa iniziale, probabilmente si è scavato una buca, lì è rimasto, poi l'ha trovato la vicina di casa, immagino sarà stata felicissima del ritrovamento, però è stato fortunato questo pitone, anche perché siccome ha bisogno di 25 gradi, di una temperatura non molto rigida, l'inverno ancora non è iniziato, diciamo poi lì sotto terra probabilmente sarà stato un po' più al calduccio, non ci sono state gelate, non c'è stato nulla, quindi alla fine insomma gli è andata bene così. No, non è l'ultima pagina, in realtà non mi ricordavo di aver selezionato anche questa pagina di sport, perché intanto sempre sul Corriere Adriatico si parla dell'Alma, che non sta andando bene, però ha il 6 più, la sufficienza da parte di un allenatore, che è un ex giocatore del Fano, che adesso allena la Juventus Primavera, e stiamo parlando di Lamberto Zauli, che è stato appunto un ex Granate e anche un big del Vicenza. Lui dice, ho visto la squadra di Fontana, cioè la squadra del Fano, in due o tre occasioni, e non mi è sembrata proprio da buttare via, proprio da retrocessione. Questo dice Zauli. Poi sotto in realtà c'è un'altra notizia, che sta facendo discutere, poi in tutta l'Italia calcistica, un video hard, un video girato in discoteca con la ragazza, le immagini sono finite sul web in modo illegale, è stato sospeso dalla squadra, dove gioca, reggia udace, e il protagonista è Matteo Voltolini, 23 anni, che è un ex portiere del Fano, che ora appunto gioca alla reggia udace. Ha fatto del sesso nel bagno di una discoteca con una ragazza, il tutto è stato ripreso, come diceva, legalmente con un telefonino, e poi non si sa perché, come è riuscito, è finito insomma su WhatsApp, un video che però è poi subito diventato in pochissimo tempo virale, cioè è passato da un cellulare all'altro. Matteo Voltolini, ex portiere del Fano, è finito suo malgrado nella bufera per una serata in discoteca, dopo l'ultima partita in cui avrebbe fatto sesso con la sua fidanzata, Giuliette Ferrari, in un locale di Reggio Emilia. E vabbè. Adesso ci fermiamo qui. L'informazione torna stasera alle 20.30, con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, e come sempre vi ricordo che per le vostre segnalazioni questo è il numero da memorizzare sul vostro cellulare. Potete utilizzare WhatsApp, potete utilizzare anche Telegram, abbiamo tutti i canali possibili, immaginabili, social a vostra disposizione. Grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.